L'epatite C è un'infezione causata da un virus trasmesso dal sangue che attacca il fegato. Fortunatamente l'epatite C è prevenibile e curabile, ma se non trattata può portare a cirrosi e cancro al fegato. In tutto il mondo si stima che circa 71 milioni di persone siano infettate dal virus dell'epatite C. La maggior parte di queste persone vive nei paesi a basso e medio reddito. In Ucraina almeno 2 milioni di persone sono affette da questa malattia e buona parte non ha accesso a testa o a trattamenti. Gran parte delle persone colpite da epatite C non sa di essere infetta. Negli ultimi anni sono stati sviluppati farmaci altamente efficaci per curare questo tipo di infezione, ma sono troppo costosi per la maggior parte delle persone. Nel 2017 MSF ha avviato un progetto di trattamento dell'epatite C a Micola IVA in Ucraina. Finora abbiamo trattato circa 900 pazienti con farmaci generici ma altamente efficaci che portano a guarigione in 12 settimane. La percentuale di guarigione allo stato attuale è superiore al 97%. Grazie a tutti.